Quello raggiunto dalle reti del gruppo Media Nord-Est è un record assoluto. Dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, le nostre emittenti in Veneto hanno rappresentato il 56% dell'ascolto di tutte le tv locali rilevate col dato elementare Minuto per Minuto Auditel. Oltre un milione di telespettatori ogni giorno sceglie le nostre televisioni. Antenna 3 è saldamente prima emittente locale del Nord-Est. Tele 4, prima televisione del Friuli Venezia Giulia per ascolti certificati Auditel. Rete Veneta, la seconda televisione più seguita in Veneto nella fascia di informazione. Tra le 12.30 e le 13.30 Antenna 3 supera in ascolto anche Rete 4 e la 7, ma abbiamo fatto di meglio. In Veneto, nella fascia informazione dalle 18 alle 20, Antenna 3 è ancora la prima televisione locale e supera network nazionali come la 7, TV8, 9 e Cielo. Rete Veneta, seconda, è davanti anche a SkyTG24. Numeri straordinari che rinnovano il nostro patto per un'informazione libera e credibile perché a decidere ogni giorno siete voi.